Ah, sempre incredibile ma sono corda di te, mi piace, ah, ah, mi piace, ah, ah, mi piace, tanto, tanto, ah, questo stranissimo palo che faccio con te, si chiama, oh, Duka, 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 l'ho ripetato, Dio. Signori, festeggiato, vediamo ora se ce la mette tutta, ce la mette tutta o ne mettono poco, quanto basta, Concetta dove sei? Con me ce la mette sempre tutta. E ce volevano guardare tutta? Oggi, prego. Mi piaci, ah, ah, mi piaci, ah, 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 mi piaci, tanto, tanto, ah, sempre incredibile ma sono corda di te, mi piaci, ah, 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 mi piaci, ah, 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 mi piaci. Tanto, 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 ah, questo stranissimo palo che faccio con te, si chiama, Duka, 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 Duka. Non so se li avete viste, ma anche i cani, poi i due alla fine, toccava, 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 pare che stavano zappando così. Alla fine, cercava, mi tocca a Duka, ma che non c'è tocco. Chi è stato, secondo voi, il più bravo fra tutte e te? Cominciamo con gli applausi. Aspettate, aspettate, aspettate. Sì, no.